Il titolo, come vedete dalla finestra, è Bergoglio, i preti di Sassari e il malumore di Luisella Scrossati. Due punti, i nodi al pettine. Allora, partiamo da un punto di vista. Noi abbiamo ormai da otto anni detto che Bergoglio non è il Papa e che quindi non bisogna obbedirgli, che Bergoglio è usurpatore del trono di Pietro a norma delle leggi della Chiesa e poi abbiamo detto che il XVI non ha smesso di essere Papa perché non ha consegnato il munus. Da quello, questa che abbiamo chiamato per primi magna questio, l'abbiamo chiamata così per la prima volta, io mi vanto, anzi a proposito, mi vanto di un paio di cose, tra l'altro di questo. Avete capito che cos'è questo? Non lo so, vi rendete conto? Mi vanto di essere di fede nera azzurra, grazie Inter che hai vinto lo scudetto e hai due stelle adesso. Io non ho potuto dirlo nei giorni scorsi perché non c'è stata possibilità, ma è una notizia importante questa. Naturalmente io, chiunque interista sono disposto a dialogare, fosse anche una cum. Va bene, quindi grazie all'Inter che ci ha regalato questa pagina. Ritorniamo a quello che stavamo dicendo. Quindi l'espressione magna questio, poi anche a questione una cum, chi le ha sollevate? Ditemelo voi, poi non lo so. Ditemelo voi chi le ha sollevate? Le ha sollevate, se non prende errore, do minutella che si è beccato due scomuni che una riduzione allo stato laicale. Ecco, allora, da otto anni circola questa cosa qui. Il mainstream ha fatto finta che io non esisto, che ora non esiste il sodalizio, non esiste questa realtà del piccolo resto, i raduni con migliaia di persone non esistono e invece gli una cum insistono col dire che Bergoglio è il Papa e che non bisogna obbedirvi se non parla ex cattedra. Vi ricordate che è una questione che nei giorni scorsi abbiamo trattato? Ebbene, proprio ieri sulla nuova bussola quotidiana, siccome i nodi ora cominciano a venire al pettine, io l'avevo detto, avevo detto, voi che fate i furbi una cum, perché per non perdere le vostre prebende fate finta di credere che Bergoglio è il Papa, così non vi tocca nessuno, preparatevi, preparatevi perché la mannaia della giustizia divina vi raggiungerà. L'ho detto. E così piano piano va accadendo. Perché ieri sono successe due cose abbastanza interessanti. La prima ringrazio Anna di Sassari e Marcello di Cagliari perché mi hanno inviato copia del quotidiano sardo, l'Unione Sarda, che rende una nota, una notizia che fa molto riflettere. Fa molto riflettere. E cioè Bergoglio ha avviato una indagine poliziesca sui preti di Sassari che non si omologano alle decisioni di fiducia supplica, anzi quindi alla pensione delle coppie gay, che non danno la comunione ai divorziati risposati, quindi a Moris e Letizia, e che celebrano la messa a Veto Sordo, quindi contro i dettami di tradizioni scustodes. È inutile, cari confratelli, perché io non sono creduto? Perché? Perché vengo trattato così anche da chi non me l'aspetto? Io ci vedo in questo un'opera del diavolo. È da otto anni che grondo sangue, è da otto anni che tutti i tentativi che si fanno sono quelli di delegittimarmi nell'autorità che il cielo mi ha dato. Non lo vogliono accettare. L'avevo detto, cari confratelli, non fate i furbi, non fingete di essere con Papa Francesco perché prima o poi Dio provvederà a scuotervi nelle canoniche. Bergoglio gli ha mandato la polizia bergogliana in casa ai preti che non si omologano ai diktat. Anzi, qualcuno di questi fedeli mi ha detto, padre, hanno minacciato anche noi laici, se non ci omologhiamo ti abbiamo segnalato. È proprio un regime, è proprio un regime. Preparatevi, sacerdoti Unacum, aveste fatto la scelta che abbiamo fatta noi, oggi sareste felici e gioiosi e liberi. Invece guardate cosa vi tocca, ecco il titolo dell'articolo Sacerdoti anti Bergoglio, il Papa indaga su Sassari. Eccolo lì, il pezzo ieri, incredibile direi, surreale, perché in una parola succede quello che Bergoglio ha saputo che a Sassari, in Sardegna, nella Sardegna del Nord, nella diocesi di Sassari, ci sono preti, ripeto, che non applicano amoris letizia, quindi non dando la comunione di corsetti risposati. Eh, miei cari, esiste un vero e proprio regime, guardate. Io ci sono passato quando ero parroco, ti mandano le spie. Appena sei segnalato, Bergoglio, per conto dei suoi vescovi gerarchi nelle diocesi, ti invia le spie, ascoltano, verificano, vengono a sapere in curia se dai la comunione ai divorziati risposati o no, se benedici le coppie gay o no, se celebri la messa betu sordo oppure ti omologhi al diktat di Bergoglio che non vuole la messa tradizionale. Lo vengono a sapere e siccome lo vengono a sapere, non crediate, cari sacerdoti, di farla franca, mi dispiace per voi. Io non vi voglio bene, vi amo fraternamente. Dio sa se dico il vero, quindi sono molto sereno, perché io faccio sempre appello, come penso tutti voi, alla mia coscienza, però voi non siete stati onesti con la vostra coscienza, non si fa così. Lo dico anche a quei preti che si sono preparati le loro cappelline sulle colline sparse per l'Italia e che portano via, credono di portare via, con un'opera che non è catechetica, è di, diciamo, come dire, delegittimazione di don minutelle del sodalizio. Venite da me, lasciate perdere quelli che cercano il risalto mediatico, che si mettono in mostra, eccetera, eccetera. Sarete anche voi raggiunti, tutti saranno raggiunti, grazie a Dio. E quello farà la differenza. La polizia bergoiana, fatta da vescovi e cardinali. Allora, leggiamo velocemente perché poi c'è il risvolto della Luisella Scrosati ieri sulla nuova bussola quotidiana, anche lì arrivano in odialpettine. Loro è da mo che dicono non bisogna obbedire al Papa Iunacum, no? Alla Luisella Scrosati, alla Dorotea Lancellotti, no? Alla padre Lanzetta, alla padre non so chi altri, che dicono non bisogna obbedire al Papa, al professor Zenone, non bisogna obbedire al Papa se non quando parla ex cattedra. E invece che cosa è successo ieri? Ve lo anticipo e poi quindi vediamo tutte e due i fronti. Ieri è successo che la Luisella Scrosati si è lamentata perché Fettuccio Fernandez, a proposito della notizia rigiunta, gli che in giro per il mondo le dichiarazioni della Congrazione predatrina della fede non vengono applicate, ha più volte parlato di un magistero ordinario, autentico, che merita alla luce del canone 752 del codice di diritto canonico. Del numero 25 della Costituzione Dommatica Lumen Gentium e della Professio Fide del 1989 impone a chiunque assuma un incarico ecclesiastico di aderire con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto agli insegnamenti che il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo. Che significa questo? Significa che il Papa esige obbedienza. Ma questo è giusto, questo è giusto, lo dicono i documenti. Esige obbedienza non solo ex cattedra, ma in quello che si chiama magistero autentico anche quando non ha atto definitivo. Quindi fiducia supplicans, quindi amoris letizia, quindi tradizione escustodes. Ora, siccome dalle parti dei salotti Nobel Patrizzi di Roma alla Roberto De Mattei o dei salotti dei network cattolici o pseudo cattolici come quelli di Riccardo Cascioli o forse anche di Padre Livio, di Radio Maria, fingono di essere con vergoglio e poi dicono che gli obbediscono solo se parla ex cattedra, eccolo lì. Avete visto che i nodi vengono al petti, nei preti di Sassari indagati da Papa Francesco perché non si omologano. Avete capito, cari sacerdoti? Avete fatto gli stolti? Adesso sarete controllati nelle parrocchie. Io so che molti di voi mi ascoltate e poi mi odiate. Io non so perché mi odiate, forse perché dico la verità. Vogliatemi bene, vogliatemi bene se siete di Dio, perché anch'io sono di Dio come voi. Non ho detto più di voi o al posto di voi. Ho detto che anch'io sono da Dio come voi. Quindi vogliatemi bene se vi dico la verità. Non mi odiate. Ve l'avevo detto, guardate, non state tranquilli mettendovi rifugiati nelle vostre canoniche, perché prima o poi la polizia bergoiana sarete scovati casa per casa, canonica per canonica, parrocchia per parrocchia. Dovete benedire le coppie gay, avete capito? Avete a che fare col diavolo. Con fratelli stolti. Non avete voluto credermi. avete a che fare col diavolo. Ora il diavolo si prenderà gioco di voi. Ora il diavolo esibirà la pretesa e il diritto di governarvi. Con i vostri fedeli che avete tenuto in unione con Papa Francesco. Mi viene dolore nel cuore. Guardate i miei occhi e il mio volto. E poi ditemi che sono indemoniato. Mi viene dolore a pensare quello che vi aspetta. Ora siete costretti. E che farete? Lo farete. Lo farete, don Abbondi Cacaroni. Lo farete. E terrete i vostri fedeli nell'inganno, nella menzogna. Non è un falso Papa che vi attacca. È la congrega di Satana che ora su di voi vuole esercitare un diritto. Avete detto le messe in questi anni in unione con Papa Francesco pur sapendo che non è il Papa per tenere in piedi le vostre premende. Ora il diavolo vuole esercitare un diritto su di voi. Come farete? Come farete? voi e i vostri fedeli come farete? Vi direte la messa di nascosto? Cioè adesso il parroco di Cassari che ha sempre detto parliamo la messa tradizionalista, imbarba i documenti del Papa, se è Papa, perché sulla tradizione di Sustodes Bergoglio ha asfaltato definitivamente la Sumorum Pontifico di Betosigio. Che cosa fate adesso? Vi dite la messa di nascosto? Dove ve le dite? Negli scantinati? Vi raggiungono? Come l'ho fatto con Don Minutella? Mi dispiace per voi. Eh, miei cari figlioli, ditemi se mi sbaglio. Mi riferisco ai aici e dico a voi cari confratelli, non era il caso di stare tutti insieme nella stessa barca? Si racconta che quando è affondato il Titanic, nel Titanic c'erano tre preti, tre sacerdoti, non sono voluti salire sulle scialuppe. Io non so perché quei preti erano così e questi siamo così. questi tre preti, quando hanno visto che la nave stava affondando e non c'era più rimedio, è tutto documentato, hanno chiesto al comandante il permesso di celebrare la messa per i passeggeri che erano nella terza classe e quindi erano i primi a dover morire e il comandante naturalmente ha detto di sì, sono andati a dir messa e hanno dispensato la soluzione generale quella in caso di pericolo imminente. Poi hanno continuato nelle altre classi a dispensare il sacramento dell'eucaristia, il perdono di Dio, seconda classe e prima classe. Finalmente la prima classe avevano la possibilità di salire sulle scialuppe, non sono voluti salire sulle scialuppe, hanno detto dati il nostro posto ad altri e morivano mentre riuscivano il cari confratelli, dico per carità un po' di sussulto di dignità, se no fate veramente questa rovinosa fine. Ma proviamo a leggere qualcosa di quello che è accaduto a Sassari, ripeto ringrazio Anna e poi anche Marcello. Lo aveva scritto a fine 2023 l'arcivescovo di Sassari che qualcosa non andava, come ha fatto l'orefice con me? Io quando ho cominciato sapevo che poi mi avreste dovuto seguire. Volenti o nolenti, capito, sarete costretti a fare i conti con la chiesa di Satana, peggio per voi che non mi avete voluto credere. Richiamando tutti all'ordine, Gianfranco Saba era stato molto chiaro il vescovo, una seppur minima, ecco perché per esempio Bergoglio nei mesi scorsi ha mandato come vescovo, non mi ricordo quale diocesi, magari me lo ricordate voi, anche se in questo momento non ho il mio cellulare, mi serve per altro, ma i fedeli del piccolo resto sardo mi dovrebbero ricordare chi è quel vescovo camaldolese, toscano, che Bergoglio ha mandato vescovo in Sardegna, un iperbergogliato da cui c'è da stare alla larga, ecco perché la Sardegna deve essere colonizzata. Una seppur minima e facilmente individuabile frangia di clero vive il proprio ministero, attenti questa è la ricazione del vescovo, in forma individualistica e autoreferenziale, nell'aperto e talvolta ostinato rifiuto di aderire con religioso ossequio così come dovuto e promesso al magistero della chiesa, e beh certo, il magistero della chiesa morisse Letizia, è il magistero della chiesa tradizionis custodes, è il magistero della chiesa questa fiducia supplicans e alle norme disposizioni che ne regolano la vita e la missione, creando scandalo, sono proprio cari confratelli, io vorrei sapere chi sono questi sacerdoti della Sardegna per stringere loro la mano e incoraggiare a venire nel piccolo resto. Hanno usato e usa il vescovo di Sassari, le stesse parole che ha usato l'orefice con me e il vescovo di, non mi ricordo come si chiama, quello di Foggia con Don Enrico Berrasconi, quando parlano di scandalo che si procura ai fedeli, scandalo e disorientamento, il popolo di Dio affidato alle loro cure, con atteggiamenti e azioni che ledono quell'unità indispensabile per l'opera evangelizzatrice. Alla frangia minima e individuabile ora è stata dedicata una nuova iniziativa, disposta niente meno che da Papa Francesco. Una visita, una ricognizione affidata al cardinale Arrigomiglio nell'Arcidiocesi di Sassari, un'attività condotta nella massima riservatezza, come nelle abitudini e prassi della Chiesa, senza scandalo e con ampiezza di tematiche e valutazioni, ma di fatto si tratta di una preindagine per fare il punto della situazione della comunità guidata dal vescovo Gianfranco Saba. Stando ai discrezioni sarebbe stato lo stesso arcivescovo a chiedere una visita apostolica, una sorta di verifica superparters per raccogliere elementi e tesionianze direttamente dal clero e da persone informate sui fatti, come si direbbe nelle inchieste penali. Interessante questo gioco ironico, le inchieste penali. Nelle settimane scorse il cardinale Emilio è andato a Sassari, ha sentito tanti e ha preso atto delle loro dichiarazioni. Mi sono stati segnalati questi preti che non obbediscono al Papa, che fanno di testa propria. Hai capito? Sassari, Docet, Firenze, Bologna, Torino, Milano, Genova, Bari, Palermo, Catania, Napoli, Aosta. Avete capito? No, dico, avete capito preti che fate i fintitonti e che se avete un minimo di coscienza, ora dovreste dire ora basta, andiamo con Don Minutella. Quel che accade, accade. Guidiamo il piccolo resto, mettiamoci insieme perché l'unione fa la forza. No, niente, si fanno perseguitare dalla polizia vergogliana. Ha dato Milio e il cardinale arcivescove merito di Cagliari, fatto cardinale da Bergoglio, a vedere chi sono questi preti. Hai capito che cosa sta succedendo? È soltanto l'inizio ufficiale della persecuzione poliziesca vergogliana. Io l'avevo detto, non sono stato creduto, che dolore che ho nel cuore. Non vengo creduto, però eppure le cose che dette sono sotto gli occhi di tutti, si realizzano. Non è che me le invento io, sto solo svolgendo una missione. Non vengo creduto. Ad ogni modo, la cosa più interessante è che adesso c'è appunto questa inchiesta nella quale questo finto cardinale Miglio deve o ha già esaminato la questione di questi preti che a Sassari celebrerebbero il rito tradizionale e avrebbero deciso di non dare la comunione ai divorziati e risposati e grazie a Dio la benedizione alle coppie gay. Ecco, vediamo come si conclude l'articolo. Ora tutto passa, quindi l'indagine è terminata, l'arcivescovo aveva ricordato che spetta a lui personalmente o mediante l'economo giusano vigilare, stando a indiscrizioni qualcuno ha ritenuto utilizzare risorse dell'arcidioce. Ora tutto passa a Roma, ma a quanto pare il cardinale Miglio avrebbe già rilevato la correttezza della linea severa e dai toni ultimativi dell'arcivescovo di Sassari. Sapete cosa significa quest'ultima frase? A quanto pare il cardinale Miglio avrebbe dato ragione all'arcivescovo Saba di Sassari? Significa scomuniche, condanne e purazioni allontanamente dei preti. Mi viene da piangere, pensare al dolore inutile di questi confratelli e a quello che li aspetta saranno buttati fuori dalle parrocchie, saranno scomunicati e lasciati soli. Io vorrei dire che a uno dei confratelli del Sodalizio, non dico chi naturalmente, uno dei motivi di convinzione o di convincimento che ho usato è stato quello di dirgli quello «Senti, ma perché devi procedere da solo?» Poi si è convinto. «Ma perché devi procedere da solo?» Una volta che poi la polizia bergogliana ti individua e ti fa fuori, se resti solo, anche se hai un paio di laici attorno, il prete ha bisogno dei confratelli, la fraternità sacere Gesù Cristo che l'ha fondata, li ha mandati a due a due e ha fondato il collegio apostolico. Il prete non può stare da solo, non deve stare da solo, a meno che non ci siano due condizioni. La prima, che non abbia una vocazione eremitica, ma anche su quello però bisognerebbe parlarne un po'. La seconda è se vede che la fraternità è falsa, allora non c'è motivo di perdere tempo come è successo a me che non andavo più agli incontri di clero. Ieri parlavo con delle persone a me care che sono state educate, formate santamente, veramente santamente, da Don Giuseppe Tagliareni, un sacerdote di Ocesi di Agrigento e mi ha colpito molto quando una di queste fie spirituali mi raccontava che Don Giuseppe andava agli incontri di clero perché era un sacerdote nobile d'animo, santo, quindi gli era stato insegnato la fraternità con i confratelli eccetera, ma quando ha visto ciò di cui si parlava, le cose che si dicevano, l'invidia tra i preti, l'ipocrisia, la farsità soprattutto poi sotto il governo bergoiano, ecco che allora poi ha preso la solende decisione di non andare più, come ho fatto io, anch'io ho fatto quello. Io non sono più andato agli incontri di clero, troppa falsità tra i preti, però se invece c'è una fraternità vera tra i sacerdoti è una chiave vincente contro il tentativo, perché sono proprio operazioni specifiche studiate nei dettagli di isolare i preti. Adesso poniamo uno di questi preti indagati per cui il miglio dà ragione al vescovo, dunque non c'è speranza per questi preti, io non so quanti siano e chi siano, non c'è speranza per loro, guardate. O si omologano, avete capito cari sacerdoti che cosa vi attende, ora loro sono posti di fronte a un out-out, o mostreranno, e penso che alcuni lo faranno in giro per l'Italia e per il mondo, di dare la convenzione dei corsati e risposati, la menzione delle coppie gay e di non celebrare se non il rito moderno del concilio Vaticano secondo, oppure appunto saranno tirati fuori dalle parrocchie. Ecco, questo lo avevamo detto da anni, i nodi vengono al pettine. E in mezzo a questa cosa qui c'è il malcontento di Luisella Scrosati, che è un articolista, un editorialista del blog, del social La Nuova Bussola Quotidiana, che ci ignora, che parla a sproposito di noi quando è stata la vicenda del coming out di Don Ramon Guidetti, disonestamente la Luisella Scrosati ha detto cose non vere, quando ha affermato che noi usciamo dalla Chiesa perché diciamo che è vergoglio eretico. Sono tutte e due cose false. Primo, noi non usciamo affatto dalla Chiesa, siete fino a prova contraria a ragione veduta voi, che siete usciti dalla Chiesa senza accorgevene perché seguite un falso Papa che governa una falsa Chiesa che è quella di Satana, e noi non siamo andati via perché casomai vergoglio eretico, ma perché non è il Papa. E comunque pazienza, chissà perché la Scrosatica è così precisa su molte cose, sul nostro conto decide di essere disonesta. Pazienza, se la vedrà con Dio se l'ha fatto apposta, e penso che l'abbia fatto apposta. Provano un certo rivore per noi, peggio per loro, la verità emerge comunque. Avevamo detto, guardate, non fate i fintitonti anche voi da quest'altra parte. Quindi i preti che sono rimasti rintanati in casa, è vero o no, cari laici, che danni che io dico loro, state attenti, venite con noi. Quelli che siete convinti che vergoglio non è il Papa e non siete d'accordo sul corso eretico apostata, non ve ne rimanete nelle false sicurezze delle vostre canoniche perché sarete raggiunti posto casa, si dice dalle mie parti. E così, avete visto, è l'inizio della polizia vergogliana. A questi altri un acumi avevo detto, piantatela di ingannare le coscienze dicendo che Papa Francesco è Papa, sì, bisogna obbedirgli. No, questo non è possibile. E giustamente è incredibile da dire. Vedete che situazione incasinata viviamo. Tuccio Fernandez dà ragione a Don Minutella, il quale ha sempre detto c'è un magistero ordinario che anche se non è espresso in forma, come si dice, con atto definitivo, però è magistero. Non si può pensare di dire al Papa obbediamo solo quando parla ex cattedra e se non parla ex cattedra qualunque cosa dice o scrive, siccome non ci piace, non si chiama. Questa è una schizofrenia inaccettabile. Ha ragione Fernandez che nei giorni scorsi, sentendo questa cosa che fiducia supplicam se non viene applicata, dignità infinita, l'ultimo documento non viene accettato, lui giustamente, guardate, è incredibile da dire, giustamente il cardinale Fernandez, incredibile a dirsi, esige, precisandoli in una conferenza stampa che alla luce, l'ho detto all'inizio, del codice diritto canonico, canone 752 del numero 25 di Lumen Gentium, una considerazione dommatica del Concilio Vaticano II e di Professio Fidei, che è un documento dell'89, ad ogni candidato ecclesiastico, incaricato ecclesiastico, è richiesta l'adesione con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto agli insegnamenti, tutti del romano pontefice, non solo quelli ex cattedra. L'avevo detto? Avevo detto a questi una cum, piantatela perché questi vi fanno fuori come meritate? Ve lo meritate? Lui se la scrossati è inutile che adesso ti lamenti e dici a Fernandez prima chiarisca le condizioni, le contraddizioni. No, prima chiaritele voi le contraddizioni e questo è Dio che si serve di Nabucodonos o re di Ciro o re di Persia perché siate puniti, perché prima o poi arriva la giustizia divina. Avete tenuto le coscienze ingannate, questa è relazione profetica e lo so che mi odierete di più. Pazienza, pazienza, è la mia missione questa, che cosa ci posso fare? Ve lo meritate, ha ragione Fernandez, citandovi questi documenti, soprattutto la professio fidei che dice che al romano pontefice, capito Dorotea Lancellotti, taci per sempre, chiedi perdono a Dio in quel canale cooperatore sveritatis in cui ingannate le coscienze dicendo che tanto il Papa non parla ex cattedra, perciò possiamo decidere di non seguirlo. Non è vero, io ve l'ho detto dall'inizio e non mi avete voluto ascoltare. Pur di salvaguardare la messa una con Papa Francisco, siete caduti nel ridicolo e ve lo deve ricordare Nabucodonosor. Al Papa si obbedisce, lo dicono i documenti della Chiesa. Casomai avreste dovuto dire con Don Minutella, ma può un Papa dare la pensione alle coppie gay? No, non le può dare, allora non è il Papa! E allora riapriamo la magna a questi, allora invitiamo Don Minutella, non volete invitare Don Minutella? Invitate Fra Celestino o Don Enrico o Don Ramon nei canali vostri, o il dottor Cionci, affrontate la questione, invece niente, niente, niente e avete quel che meritate, perché agli insegnamenti del Romano Pontefice tutti, tutti gli insegnamenti sono obbligati ad aderire con religioso seguo della volontà e dell'intelletto agli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo. Quindi anche quando non c'è l'atto definitivo, che è quello, poniamo per esempio il più solenne della ex cattedra, però se il Papa parla e il Collegio dei Vescovi uniti al Papa si esprime, bisogna vedere, capito Luisella Scrosati, capito dottor, guardate avete un grado di ipocrisia che merita questo e anche altro, avete capito che adesso siete con le spalle al muro e con odio al pettine, meno male, può darsi che vi rinsabiate, ha capito signora Dorotea Lancellotti, il teologo storico della chiesa Lanzetta, l'ha capito questo? L'ha capito padre Livio, l'ha capito il dottor Cacioli, l'ha capito il mondo Nacum, l'ha capito il lesimio professor Zenone, l'avete capito dalle parti di fede e cultura, adesso piantatela perché avete ingannato le coscienze, al Papa si obbedisce sempre, capito? Lo dicono i documenti della chiesa e Fernandez ve lo deve ricordare. Che cosa fa allora la Scrosati? Ascoltate, sentite i voli pindarici per cercare di salvarsi a tutti i costi, hanno l'acqua alla gola, stanno annegando e fanno finta di essere a mare, a godersi l'estate. Dice la Scrosati, parlando di Fernandez, ha affermato che quanti criticano Papa Francesco ritengono, ecco guardo qui, ritengono che esistano solo il magistero ex cattedra del Papa o il magistero che intende definire qualche punto della dottrina. Ecco, Zenone, Lancellotti, Scrosati, Cacioli e così via dicendo, sta parlando di loro. Qui incredibilmente noi veniamo salvaguardati, è evidente, no? Ripetendo più volte che mai il Papa Francesco eserciterà il magistero in questo modo. In sostanza, secondo il Cardinale, l'assenso dovuto a questo terzo livello di magistero, ossequio dell'intelletto e della volontà, impedirebbe ogni critica a motivo dell'assistenza dello Spirito Santo promessa al Pontevice. Beh, e non è così? Scrosati, scusami, scusi, signorina Scrosati, non è così? Signora Scrosati, scusi, non è così? Se non è così, lei non è più cattolica, abbia pazienza. E allora qui iniziano tutti i tentativi di salvataggio. Partiamo, dice lei, da un punto fermo. La professio fidei dell'89 vincola tutti i cattolici e impegna specialmente coloro che nella Chiesa devono assumere un incarico etesiastico per obbedire a tutti gli insegnamenti del Papa. E allora vediamo. Pertanto è di fede che esista effettivamente un magistero autentico che deve essere ascoltato anche quando non intende proclamare un dogma o insegnare in modo definitivo. Costretta a dirlo. Glielo ha gridato Dominutella per anni, ma Dominutella non merita attenzione. Ora che glielo dice Fernandez, lei è costretta a dirlo. Che al Papa si obbedisce anche nel magistero ordinario, anche quando non è proclamato in modo definitivo. Avete capito? È intervenuto Fernandez a dare ragione a Dominutella contro Ionacum. Veramente, guardate, il Padre Eterno si serve di qualunque cosa. Vorrò vedere cosa dicono da quelle parti. Però aggiunge, eccolo lì, il tentativo mefistofelico di continuare a tenere le coscienze degli Ionacum ingannate. Peggio per loro, peggio per loro, dice la Scrosati. Ma lo sepio non coincide con il prestare un assenso definitivo incondizionato, altrimenti questo terzo tipo di assenso non differirebbe dai due precedenti. Papessa Scrosati minchino dinanzi alla sua autorità morale e teologica. Avete capito? Decidono loro. E questo è il grado di superbia intellettuale. E poi fa tutto un discorso. E finalmente dice una cosa che è condivisibile. Cioè, si può obbedire al magistero, anche ordinario, quando contraddice la tradizione e il Vangelo? E porta gli esempi. Dice, partiamo dal primo esempio. Il testo di Amoris Letizia, soprattutto la nota 151, è in contrasto con la tradizione. Si citano i documenti che ribadivano che l'assoluzione sacramentale e l'ammissione alla comunione sono possibili solo per coloro che sono pentiti e propongono di vivere castamente. Ma la lettera di Francesco a Monsignor Fenua, delegato della regione pastorale di Buenos Aires, le cose che abbiamo detto noi in questi anni sono costrette a dire loro. Inserita negli atti apostolici 1610-2016, autorizzava esattamente l'opposto, approvando la possibilità di accedere al sacramento della riconciliazione, quando non si riesca a mantenere il proposito della continenza. Che cosa significhi quel non riuscire? Non è chiaro. Lo si potrebbe intendere, lo si potrebbe intendere. Attuccio l'onere di chiarire il dubbio. Nel frattempo, vuole dire la tipa, noi non obbediamo. Eccoli i cattolici una cum. Sovversivi, disobbedienti, criptoluterani. Esigono che gli si spieghi, altrimenti non obbediscono. E poi porta l'esempio di fiducia supplicanze. Anche questo rompe con la tradizione. Dunque anche in questo caso Tuccio non chiarisce ma elude. E poi la pena di morte, eccetera. Conclusione. Proprio in nome di quello sequio della volontà e dell'intelletto richiesto dal Magistero autentico, Tuccio ha il dovere di rispondere a queste obiezioni. Perché nessuno può assentire ad una cosa e al suo contrario. E come mai? Dottoressa Scrosati, voi lo state scrivendo solo ora, e vi siete invece rifugiati sul nido dorato dell'ex cattedra, insistendo da più parti che tanto al Papa si obbedisce solo ex cattedra? Come mai ora state mettendo in luce questo problema? Deve dunque rispondere, sì o no, a tre semplici domande. Primo, è possibile assolvere e comunicare una persona che non ha il fermo proposito di interrompere rapporti more-uxorio? Due. Secondo, la benedizione autorizzata alle coppie omosessuali è un sacramentale. Terzo, la pena capitale è un atto cattivo tale da non ammettere eccezioni? A lui, conclusione della Ipsa, Ipsa dixit, Ipsa dixit, Scrosati dixit, a lui l'onere di rispondere e mostrare così se c'è contraddizione o no. Bene, mentre Tuccio Fernandez e Cara Scrosati proverà per lei e per tutti voi una cum a risponderle, anch'io le pongo tre domande. Naturalmente lei non mi risponderà. Prima domanda, è possibile che uno che è eletto validamente come successore di Pietro e detiene il munus che serve a confermare i fratelli nella fede possa pertinacemente e pervicacemente condurre all'eresia e all'apostasia dalla fede? Prima domanda. Seconda domanda, i documenti della Chiesa chiariscono con ogni evidenza che il Papa è assistito costantemente da un carisma speciale anche quando non pronuncia affermazioni ex cattedra o no? Terzo, andare a messa in unione col cosiddetto Papa Francesco e poi esigere che chiarisca i punti è o non è contraddittorio, non solo da un punto di vista liturgico ma soprattutto soprannaturale? Che razza di comunione esprimete col Papa quando mettete in dubbio i suoi insegnamenti? Ecco, io oggi vi ho descritto com'è la situazione tra il sistema poliziesco che esiste nella Chiesa, i preti ora saranno lentamente quelli che non si omologano in tutto il mondo, raggiunti anche i vescovi ma soprattutto i preti, sarà il basso clero, sarà raggiunto dalla polizia bergoiana quando non vedranno le coppie gay e non daranno la comunione dei processi rispossati e ce l'eberanno messa tradizionale eccetera eccetera eccetera. E poi abbiamo visto che i nodi vengono al pettine anche per una cum perché? Perché Fernandez ha giustamente citato questo documento preziosissimo e purtroppo poco noto con il quale si dice che al Papa si obbedisce alla professione Fidei dell'89 anche quando esprime un magistero autentico sebbene non proclamato con atto definitivo e quindi non è vera l'affermazione che tanto non parla ex cattedra, allora vedete che sono totalmente alla frutta, credo che il diavolo li abbia messi in trappola col sottoscritto, ne lo dico in che termini, non accetteranno mai che avevo ragione io, credo che io sia stato costretto, che Dio mi perdoni se dico quello, a essere pietra di inciampo, pietra angolare, me lo sento e ve lo dico perché sono molto schietto con voi, poiché meno in fischio del giudizio umano? Io dico quello che lo spirito mi suggerisce, loro non accetteranno mai di riconoscere che c'era uno che hanno odiato e che odiano a morte, parlo degli Unacume, cioè Don Minutella che aveva detto il vero, che li ha fustigati per anni sperando che si convertissero e invece sono infradiciti e infracidiscono dietro il falso Papa Bergoglio della falsa chiesa di Satana che manda la polizia finalmente nelle canoniche dei preti che pensavano di farla franca.